L'asma è una patologia sempre più diffusa sia negli adulti che nei bambini. Quali sono le nuove frontiere nella terapia e negli approcci terapeutici? C'è molta attenzione sull'asma perché effettivamente è una malattia ad alta epidemiologia. È cresciuta molto nelle ultime decadi per una serie di motivazioni comportamentali, ambientali, l'alimentazione. Per cui, ad esempio, nelle fasce pediatriche raggiunge delle percentuali molto consistenti. Diciamo che la terapia inalatoria consente di ottenere dei buoni risultati. Si insiste molto soprattutto sul buon uso dei farmaci perché essendo una malattia infiammatoria gli steroidi inalatori sono i farmaci fondamentali. Invece i nostri pazienti molto spesso usano i farmaci al bisogno che sono generalmente i broncodilatatori, il famoso salbutamolo che si usa un po' al bisogno e si è visto che ogni tanto purtroppo capita qualche caso grave che non sono pazienti gravi ma pazienti che vengono curati male, cioè con broncodilatatori al bisogno, di cui magari si abusa nel momento della crisi. Quanto è importante anche una diagnosi precoce nell'asma invece di arrivare poi ovviamente dopo il fai da te? È fondamentale come tutte le malattie croniche. Mi sentirei di dire che questo è uno dei pochi aspetti che è stato migliorato nel tempo. Attualmente i ritardi non sono poi così clamorosi, soprattutto nell'età pediatrica c'è molta sensibilità per cui il bambino che ha broncospasmo di solito ha un accesso abbastanza agevolato. Quindi da un lato la diagnosi precoce, ripeto forse su questo abbiamo ottenuto i migliori risultati, dall'altro la continuità della terapia su cui invece c'è ancora molto da lavorare. Ci sono molti luoghi comuni legati per esempio agli inalatori, gli spray inalatori per i soggetti asmatici che hanno delle conseguenze. Lei è d'accordo? Diciamo che noi abbiamo una peculiarità che è un pro e anche un contro. Il pro è che usiamo una terapia inalatoria che assicura che sul sito dell'infiammazione l'apparato tracobronchiale il farmaco vada direttamente. Quindi evita il passaggio sistemico, le compresse e questo ci riduce gli effetti collaterali. Questo è sicuramente un vantaggio. Il contro è che probabilmente non c'è la stessa percezione della compressa. Viene vista un po' in modo meno evidente la terapia inalatoria. Per cui questa tendenza ad abbandonare la terapia è anche perché i pazienti avvertono questo spray come qualcosa che non è così fondamentale come prendere una compressa per la pressione alta o per il diabete. Riguardo ai farmaci biologici? Diciamo che da questo congresso si evidenziano le strategie terapeutiche e quindi l'uso corretto della terapia inalatoria negli asmatici che come dicevo ottiene dei buoni risultati nella stragrande maggioranza. Da qualche anno abbiamo delle nuove opportunità per i pazienti gravi. Non sono molti, sono un 5% dell'intera popolazione di asmatici ma sono pazienti che vivono, vivevano molto male. Tanto cortisone per compresse, per iniezioni, riacutizzazioni asmatiche, accessi a pronto soccorso, ospedalizzazioni, ma soprattutto con gli effetti collaterali dei farmaci del cortisone, aumento di peso, diabete, osteoporosi. Per loro si è aperta una nuova opportunità, soprattutto quando c'è un tipo di infiammazione particolare che è quella degli eosinofili, i biologici ottengono dei risultati veramente molto brillanti. Si parla addirittura di remissione della malattia in terapia ovviamente, cioè pazienti che non hanno più riacutizzazioni, che non usano più cortisone. È un risultato che sino a qualche anno fa era veramente impensabile. Qual è il suo punto di vista riguardo alla vaccinazione nei soggetti con patologie legate all'appalato respiratorio? Da un po' di anni, sia il documento GOLD che il documento GINA, faccio riferimento ai due documenti internazionali di riferimento per la BPCO e l'asma, hanno inserito con valenza A, cioè con grande valenza scientifica, la vaccinazione perché causa di mortalità, soprattutto l'infezione, soprattutto per quanto riguarda la BPCO. Sono state inserite due vaccinazioni, la vaccinazione antinfluenzale, che è consigliata a tutti i nostri pazienti respiratori, e la vaccinazione antipneumococcica. Il pneumococco è il batterio più frequentemente coinvolto nelle riacutizzazioni, per cui entrambe hanno evidenza A, che è la massima, ed è consigliata dalle due linee guida. Si parlerà in questo congresso di un nuovo approccio per quanto riguarda la vaccinazione, che è quella del virus respiratorio scienzeziale. Nel bambino dalla bronchiolite, i bronchi sono piccoli, e quindi un'infiammazione dei bronchioli causa delle gravissime crisi respiratorie, mentre nell'adulto è causa di riacutizzazioni. I risultati sono molto promettenti, nel senso che riducono le riacutizzazioni da questo virus. Quindi probabilmente nel prossimo e immediato futuro ci sarà anche questa possibilità, sempre nell'ottica di ridurre i momenti di crisi a seguito di infezione. Per chiudere, Presidente eletto Aivo, quale saranno le sue linee guida? Noi abbiamo bisogno di interagire con il territorio. Io lavoro in un grande ospedale, però sono il primo a considerare l'interazione con il territorio molto importante. Noi abbiamo alcune grandi sfide. Sono state definite le case della salute da Agenas, con un decreto legge che prevede che venga fatta una casa della salute ogni 50.000 abitanti, per cui in Italia verranno fatte tantissime case della salute. Dobbiamo fare in modo che non siano solo dei muri, ma che siano riempiti di contenuti. Nel documento si scrive che dovranno essere presenti tutto il giorno un'assistenza sanitaria, che devono esserci delle dotazioni strumentali e obbligatorie, elettrocardiogramma, esami del sangue, ecografia e finalmente spirometria. E che ci sarà il ricorso delle figure professionali relativamente alle malattie più frequenti in ambito epidemiologico, cardiologo, diabetologo, pneumologo. Per cui questa è la nostra grande sfida, poter entrare nella casa della salute per supportare il lavoro dei medici di medicina generale. Io credo che il 10% della popolazione ha l'asma e la BPCO, non possiamo pensare che in una provincia di un milione di abitanti, come può essere la mia, 100.000 persone vadano tutte in ospedale, solo per l'asma e la BPCO.